Perché quella faccia? Perché mi hai portato qui? Perché sono mesi che mi chiedi di venire a budget jumping. Sono mesi che mi dici che non mi avresti mai permesso di buttarmi. Ho cambiato idea. C'è qualcosa che mi devi dire? No. I genitori fanno queste cose quando devono dare le brutte notizie. Mamma mi ha portato a Gardaland per dirmi che era incinta. Tranquilla, io non sono incinta. Ho pensato una cosa. Che cosa? Che dovrei stare più da te. Perché? Quei due sono tutti presi dal bambino che deve arrivare e io e la mamma litighiamo sempre. Ma la mamma è solo un po' stanca. Appunto. Tu già stai con me a metà settimana. Se ti pesa tanto non vengo. No, non è questo. È normale che quando tu non ci sei papà fa delle cose. Che cosa? Faccio dei lavoretti a casa, stiro, mi riposo un pochino, magari vedo un amico. Mi prendo qualche momento per me. È normale, no? Hai una fidanzata per caso? Che fidanzata? Il papà di Roberto quando si è fidanzata per dirglielo l'ha portato a Disneyland. Ma io non sono il papà di Roberto però. No, tu sei molto più tirchio. Io non sto cercando di corromperti. Va tutto bene, Sofia. Per me tu sei la cosa più importante. Mi sta a cuore solo la tua felicità. Sì, perché è importante la mia felicità. Allora quando facciamo il jumping, il bungee jump. Il bungee? Lo facciamo adesso. Poi tocca a noi. Vieni pure tu. Certo, vengo pure io. Dopo di te magari. Va bene.